Lo specifico sempre Dada Adesso non rosicare Perché mi hai fatto mangiare a merda No Non sto rosicare Tutti Ma tutti che ti partano al ristorante stellato E che cazzo vuol dire Allora stavo a fare In base a quanto uno è più ricco Io al ristorante stellato te ce posso portare Poi se il Maseo è ricco E una volta Una volta a settimana Settimana lui va a mangiare in quello stellato Come una volta a settimana Ma che caga davvero L'ingotti d'oro Maseo Gli escono proprio Come i formine quelli dei bambini C'è presente che devi mettere il blocchetto dentro Lui c'è la forma del lingotto d'oro Lui ce va davvero Eh raga cioè per forza Paga poche tasse Allora è quello il problema Abitualmente È ricco Dove vai di solito a mangiare È qua No data perché No data perché tu sei povero Aspetta fermo C'è una via de mezzo Tra essi poveri e essi ricchi C'è sta pure chi cazzo è che va a mangiare a pranzo Oggi oggi mi spiego Io vado a mangiare A ristorante tre stelle C'è non è C'è Hai a mangiare solitamente Nello stellato Michel Ma come non ci va nessuno Anche Codomo Non mi ha portato allo stellato Mi ha portato al forno A mangiare la pizza bianca In rosticceria A mangiare il pollo E mi ha portato a mangiare ramen Però si è presa 9 meno Ma come non mi ha portato a mangiare Ma come non mi ha portato a mangiare Porca Sì ma Ma poi Cioè Al ristorante stellato Ci vai una volta Per fare un'esperienza Quante cazzo di esperienze Devi fare Darsi questa cosa Eh Quante cazzo di volte Ci vai al ristorante stellato Per fare un'esperienza